Il suo nome è Firefox, Mozilla Firefox, ed è un browser, un programma per navigare in internet. Mmm, ci sono dentro. Attualmente Firefox è il secondo browser più utilizzato al mondo, dopo Internet Explorer per Windows, che forse primo non sarebbe se non si trovasse già installato insieme ai sistemi operativi Microsoft. Il 17 giugno 2008 è stata rilasciata la nuova versione, la 3, che in 24 ore è stata scaricata 8 milioni di volte, entrando così nel Guinness dei primati. Firefox è disponibile per qualsiasi sistema operativo, ovviamente per Linux, visto che è open source, ma anche per Windows e Mac, e chiaramente è gratuito. A proposito, Firefox in inglese significa... No, sbagliato, significa panda rosso, ma in effetti il simbolo è una volpe di fuoco. Eh sì, è come se una società di nome Cervo Volante avesse come simbolo non il noto coleottero, ma un cervo con le ali. Ma vediamo che cosa c'è di straordinario nel cervo, cioè nella volpe, nel panda, insomma, nella bestia. Per chi naviga in internet, la preoccupazione principale è evitare truffe e virus. Ogni volta che digitate un indirizzo, Firefox controlla se quel sito è sulla blacklist messa a disposizione da Google e avvisa l'utente di un eventuale pericolo. È un sistema molto efficace per evitare quei siti che contengono virus o programmi che potrebbero danneggiare il vostro computer. Un altro tipo di truffa molto diffuso è il phishing, siti fasulli che imitano la grafica di siti istituzionali o di banche, al fine di rubare PIN o password. Per evitare questo tipo di raggiri, da tempo sono stati sviluppati i certificati digitali, che garantiscono l'identità di un soggetto. Ebbene, se il sito ne è munito, Firefox automaticamente si colora di verde e ve lo segnala. È inoltre possibile recuperare informazioni aggiuntive sul sito in cui vi trovate, quante volte lo avete visitato in precedenza, se ci accedete attraverso una password, quando è stato modificato l'ultima volta e molto altro ancora. Non dimentichiamo poi che Firefox è un software libero, che significa che è sempre sotto gli occhi di migliaia di esperti, che possono scoprire e segnalare ogni minima lacuna. Periodicamente il programma controlla la disponibilità di correzioni o nuove versioni, e se ci sono vi avvisa. L'aggiornamento si fa con due clic. Molto utile è poi il tasto CTRL, che può essere usato per una marea di operazioni. Ad esempio, tenendolo premuto, è possibile duplicare le schede di navigazione, e con tutta la loro storia, una funzione molto comoda per seguire più ricerche in parallelo. Dovete riportare delle parti di testo? Sempre con l'aiuto del tasto CTRL, CTRL, potete effettuare una selezione discontinua del testo, copia e incolla. In combinazione con il più e il meno, si ingrandisce e rimpicciolisce la pagina, senza che vengono deformate le proporzioni fra gli oggetti al suo interno. Avete presente quella fastidiosa abitudine di alcuni siti che ti aprono davanti agli occhi una pubblicità? Ebbene, come impostazione predefinita, Firefox blocca queste snervanti finestre. E se invece ne avete bisogno, siete voi che potete autorizzare quel sito specifico a fare pop! Poi c'è la Awesome Bar, la barra intelligente, dove non si scrivono solamente gli indirizzi, ma si effettuano automaticamente ricerche fra i propri preferiti e fra i siti che abbiamo visitato di recente. E se non si trova niente, parte la ricerca in Google e Wikipedia. Sempre sulla barra si annotano in modo rapidissimo sia gli RSS pigiando sull'apposito tasto inventato dalla Mozilla Foundation, sia i segnalibri cliccando sulla stellina. Vi potete dedicare e riordinare quest'ultimi con calma e quando avete tempo, creando anche delle cartelle personalizzate. Strepitose le possibilità di organizzazione. A proposito di segnalibri. Nel caso passasse da Internet Explorer a Firefox, nessuna paura, li potreste importare tranquillamente. Passiamo ora all'altro riquadro, quello di destra. Google è il motore di ricerca predefinito, ma è possibile scegliere tutto quello che si vuole. Yahoo, Wikipedia, un dizionario italiano-inglese, un vocabolario etimologico, le pagine bianche... Ce ne sono più di 16.000 e i più famosi sono chiaramente YouTube e i motori di ricerca per file torrent. Birichini. Ma Firefox è davvero insuperabile con le estensioni, ovvero dei piccoli programmini che si possono scaricare e aggiungere e che vi permettono di fare con comodità delle specifiche operazioni. Ecco alcuni esempi. Vorreste scaricare i video da YouTube o da altri siti di video sharing? Un'estensione di nome Video Download Helper vi permette di farlo in modo semplicissimo e anche di impostare la conversione automatica dei file video in un formato specifico. Chi detesta le pubblicità presenti nei vari siti web, trova un alleato in Adblock Plus che le blocca tutte. Questi sono solo due degli esempi delle centinaia di estensioni disponibili per ogni sfizio o esigenza, tutte scaricabili gratuitamente dal sito della Mozilla Foundation. E poi c'è la gestione dei temi. Non vi piace quello predefinito per il vostro sistema operativo? Ne volete uno più audace, spaziale, mieloso, più sobrio? Scegliete lo stile che più vi si addice. Ci possono davvero essere dubbi su quale browser utilizzare? Qualcuno dirà, ma io sono abituato con il mio. Sì, beh come se per un volo transcontinentale vi offrissero di spostarvi gratuitamente in prima classe e voi vi rifiutaste perché ormai avete già sistemato il bagaglio a mano. Se credete che questi video siano utili, aiutateci a realizzarne di nuovi. Come? Diffondeteli il più possibile. La licenza con cui li rilasciamo lo permette. L'abbiamo scelta apposta. Fateci sapere cosa vi è piaciuto e cosa va migliorato. Correggete i testi dei nuovi episodi oppure valutate le anteprime dei video. Partecipate alla ricerca e allo sviluppo del testo. Dateci una mano a risolvere eventuali problemi tecnici oppure ancora aiutateci a tradurre i testi in altre lingue. Fate una donazione, diventate sponsor o metteteci in contatto con possibili finanziatori. Iscrivetevi alla newsletter del progetto e scegliete come collaborare oppure seguite direttamente i lavori nel cantiere. Ogni contributo è prezioso. Alla prossima!